Iniziamo l'anno con l'opera del buon umore col botto. Innanzitutto io l'ho iniziato col botto, infatti, non ho praticamente postato per tutto gennaio perché ho avuto l'influenza, infatti, sono stato assente per diverse settimane perché sono stato impossibilitato a letto. Tant'è che questo duetto, che in realtà è un duetto più quartetto, fantastico, bella figlia dell'amore, parliamo di Verdi, Rigoletto, io lo volevo proporre per Capodanno, per festeggiare l'anno nuovo, e invece purtroppo, vabbè, praticamente con un mese di ritardo però, andando al sodo. Allora, finora io ho proposto praticamente soltanto a soli femminili, vabbè, soltanto intraviata c'era anche la voce maschile, era quasi un duetto, ma quello che vi propongo adesso è un vero e proprio duetto, c'è un dialogo fra due persone, due cantanti, un tenore, il duca di Mantova, e una mezzo soprano, Maddalena del Rigoletto, che poi diventa un quartetto quando si aggiungono Rigoletto, Baritono e Gilda, sua figlia, che è un soprano. Quindi inizia come un duetto, semplicemente, fra un tenore e una mezzo soprano, quindi la voce più alta di un maschio è la voce di media tonalità tra le donne, la mezzo soprano. La più bassa è contralto, poi c'è mezzo soprano, e la più alta è il soprano. Quindi abbiamo questa sorta di incrocio, no? La voce più alta tra gli uomini è la voce di mezzo fra le donne. Ed è un duetto di praticamente due persone che giocano a corteggiarsi, ma che in realtà sanno che il loro amore è impossibile, perché lui è il duca di Mantova e lei è una semplice cortigiana, una prostituta. Quindi sanno entrambi che non possono sposarsi, non possono... possono semplicemente... quella cosa là. Fate conto che qui il duca di Mantova ha già cantato la famosa aria, la donna immobile, che vedremo più avanti. Questo duetto più quartetto è molto più coinvolgente, per questo ve lo propongo prima. Allora, non c'è bisogno che vado ad analizzare il testo, perché, a parte che ci sono già i sottotitoli nel video che andremo a vedere, che è la versione fatta a modi cinema, a modi film, dell'opera Il Rigoletto. Siamo dentro la taverna. C'è il duca di Mantova con Maddalena, che non a caso ha il nome di Maddalena, la famosa Maddalena, no? Richiama alla famosa Maddalena della Bibbia, che, vabbè, non è passata la storia per essere una santa, anche se poi queste voci non si sa quanto siano state fondate, ma non entriamo nel dettaglio. Giocano a corteggiarsi. Però, la figlia di Rigoletto, Gilda, è innamorata del duca di Mantova. Quindi, mentre loro giocano a corteggiarsi, e siamo nel duetto un di se ben rammentumi, dove praticamente il duca di Mantova dice a lei che si è innamorato di lei, mentre lei risponde con frasi che lo respingono, essenzialmente. Lei gioca a respingerlo, dice, sono brutta, a chissà quante altre, e dici le stesse cose, essenzialmente il gioco è questo. E lui spinge sempre di più, io sono completamente innamorato di te, essenzialmente sono pazzo di te, ti voglio sposare. Nel frattempo che questi due giocano a fare i piccioncini innamorati, arrivano fuori dalla taverna Rigoletto con Gilda, che attraverso la finestra vedono quello che sta succedendo dentro la taverna, quindi vedono il duca di Mantova che sta corteggiando Maddalena. E dagli spettatori possono vedere il muro, la sezione della taverna, lo capirete appena vedrete il video, perché essenzialmente gli spettatori riescono a vedere contemporaneamente sia Rigoletto con sua figlia fuori dalla finestra, e il duca di Mantova e Maddalena dentro la taverna. Rigoletto e Gilda vedono e sanno che il duca di Mantova e Maddalena sono dentro, mentre loro due non sanno chi c'è fuori. L'intreccio di voci diventa doppio, perché abbiamo fuori una soprano, quindi la voce più alta tra le donne, che dialoga con la voce di mezzo fra gli uomini, Rigoletto, che è un baritono, perché la voce più bassa è appunto il basso. Però non soltanto le due voci interagiscono fra di loro in modo parallelo. A volte si intrecciano perché dopo che canta una da fuori, per esempio, Gilda, poi risponde il duca di Mantova tenore dall'altra parte. E viceversa, gli intrecci diventano molteplici e successivamente le voci si accavallano. E inoltre voi potete notare come il quartetto inizia in modo graduale, perché prima è un semplice duetto fra il duca di Mantova e Maddalena. Stanno parlando. Poi arrivano Gilda e Rigoletto da fuori la taverna e iniziano con qualche battuta, sempre cantata. Successivamente il duca di Mantova inizia proprio la prima strofa del quartetto, ovvero Bella figlia dell'amore. Da quel momento è un quartetto, il quartetto è già formato, ci sono tutti i partecipanti. E voi dovete notare come nel corso del quartetto, mentre all'inizio ognuno dice la propria battuta in forma graduale, il ritmo poi successivamente incalza sempre di più. E incalzando le voci iniziano ad intrecciarsi sempre di più, fino a quando in un crescendo continuo, perché finisce proprio in picco, in alcune versioni addirittura finisce con un acuto della soprano. C'è una versione con Joan Sutherland e Pavarotti, che vi metto pure nel link, in cui finisce proprio con l'acuto della soprano, il quartetto. In questa versione non finisce con l'acuto della soprano, però tutto il quartetto è un crescendo di tensione, di tonalità. Si va sempre più in alto, sempre più in alto, sempre più in alto, fino a quando proprio non parlano tutti allo stesso tempo, ognuno con il proprio messaggio, che si stilizza sempre di più in poche parole, o in vocalizzi, ed è una cooperazione di voci onestamente indescrivibile con parole umane. Questa è proprio la magia dell'opera, i vari messaggi che si intrecciano allo stesso tempo. E in questo sta la capacità di chi ascolta di riuscire ad apprezzare tutto nell'insieme. Non è difficile, perché comunque sia, prima che si arriva al punto in cui tutti parlano insieme, si sentono le varie voci in alternanza. Prima parla uno, poi parla l'altro. Quando arrivano a cantare tutti insieme, sono essenzialmente già messaggi che loro hanno già cantato prima, quando cantavano da soli. Quindi, quando si arriva al punto in cui cantano tutti insieme, il punto non è capire quello che dicono, perché lo sappiamo già quello che dicono, perché lo abbiamo già ascoltato in maniera chiara ed individuale. Quando cantano tutti insieme, il punto è capire che ognuno di tutti e quattro sta esprimendo un'emozione diversa. È un'emozione espressa in musica. Gilda è disperata. E infatti si capisce che è disperata dai acuti, sempre più alti. Rigoletto è frustrato da questa figlia che non vuole capire nonostante l'evidenza. Perché Rigoletto porta la figlia lì in modo tale che lei capisca che il duca di Mantova non è una persona affidabile. Il duca di Mantova, da dentro la taverna, è arrapato. Gli pulsa il pisello al duca di Mantova. Cioè, quello non fa altro. È come un fauno il duca di Mantova. Non vorrebbe fare altro che pigliare Maddalena lì per dov'è e fare tutto quello che c'è da fare sul tavolo stesso lo farebbe lui. Cioè, quello è un toro. Infatti, non a caso, secondo me, Pavarotti ci calza proprio a pennello. Tra l'altro è un giovane Pavarotti. E poi, Maddalena, quella è divertita. Maddalena è nel suo mondo. Perché Maddalena, comunque sia, essendo una prostituta, è abituata a respingere gli avanzi di persone, di uomini arrapati. Quindi, figurati, per quella tutto grasso che cola. Infatti, nelle migliori interpretazioni, Maddalena sorride sempre. Perché è divertita. Lei dice, ma vedi questo? Che cosa sta cercando di fare? Come se io adesso casco per l'ennesimo pisello che trovo. Scusatemi, ma questa... Nell'opera c'è tutto, io ve lo dico sempre. Qua ci sono corna, ci sono tradimenti, c'è amor, c'è un uomo arrapato, c'è tutto. C'è un padre disperato, c'è un'innamorata che, tra l'altro, se non sbaglio, è già stata deflorata. Perché lei è innamorata, Gilda non a caso. Tra l'altro, questi due mondi, fuori dalla taverna con Rigoletto e Gilda, dentro la taverna con il duca di Mantova e Maddalena, sono essenzialmente anche due realtà parallele. Perché mentre dentro la taverna, l'amore viene vissuto in maniera giocosa, in maniera rilassata, in maniera leggera. Questi due giocano a corteggiarsi. Poi producono anche, nel frattempo, un capolavoro musicale, ma essenzialmente sono due ragazzi che stanno lì a giocare sull'amore. Fuori dalla taverna, è tutto serio, tutto drammatico. È visto... Cioè, non c'è spazio allo scherzo. Si parla di una ragazza tradita, che si sente tradita, o una ragazza delusa, una ragazza disperata. Come vi ho anticipato, la versione del video che vi propongo qua sotto, che ascolterò con voi, è la versione fatta a film del Rigoletto, in cui il Duca di Mantova è Pavarotti, Gilda è interpretata da Editha Gruberova. Editha Gruberova è una cantante, una soprano che per lo più fa coloratura. Non rientra molto nei miei gusti il suo stile di canto, per puro proprio gusto personale. Poi, invece, devo ammettere che Rigoletto, Ingvar Mixwell, non lo conosco, così come non conosco neanche chi interpreta Maddalena, che è Victoria Vergara, la Mezzo Soprano. Principalmente, ovviamente, il motivo per cui vi propongo questo video è Pavarotti. Però, ve lo metto a confronto, questo quartetto Bella figlia dell'amore, in cui c'è un Pavarotti giovane, con un altro quartetto, con cantanti dalle voci, diciamo, che appartengono ad un'altra epoca della lirica. Vi metto il confronto con il quartetto fatto da Amelita Gallicurci, Caruso, Perini e De Luca, che onestamente... Vabbè, i più importanti sono la Gallicurci e Caruso. Voi noterete che questo quartetto di voci, diciamo, antiche, a confronto con il quartetto che io ascolto con voi, dove c'è Pavarotti, sarà più facile da capire, cioè, le voci si capiscono più facilmente. Questo è dovuto al fatto che lo studio dell'opera con il tempo è cambiato. E mentre prima si dava molta più importanza alla parola, con il tempo si è passato a dare più importanza al suono. Cioè, nonostante il quartetto antico sia una registrazione antica, quindi si sente anche la puntina del giradischi, eccetera, per come emettevano la voce le cantanti e cantanti del secolo scorso, risulta più facile per certi versi e fino a un certo livello da capire in confronto alle voci dei cantanti moderni. Quindi voi guardatevi prima quello che io ascolto con voi e poi fate il confronto con il secondo quartetto. Vi metto anche un terzo quartetto che è un Pavarotti più avanti con l'età con una bellissima maddalena, bellissima proprio, cioè ve lo dico io, fidatevi, è una Joan Sutherland che fa da Gilda, quindi la soprano, Joan Sutherland anche lei, avremo più tempo di entrare nel dettaglio, una voce sicuramente studiata, Joan Sutherland è stata con lei la quale ha aiutato Pavarotti a fare carriera agli inizi, quindi sicuramente un pezzo grosso, soltanto che Joan Sutherland era australiana, è morta pure lei. Non tanto il suono, perché il suono era un po' monotono secondo me di Joan Sutherland, ma proprio anche l'articolazione delle parole risentiva del suo accento inglese in certe opere, in certe aree di più, però anche lì entriamo proprio in una questione di gusti, ognuno ascolti con le proprie orecchie e con il proprio cuore, anche con i propri gusti. Questo terzo quartetto termina con l'acuto della soprano, cioè di Joan Sutherland, che non c'è nel primo. È un quartetto fantastico, oltre al duetto anche, è bello anche iniziare a spaziare oltre a composizioni fatte per più voci, perché lì c'è proprio l'essenza della bellezza dell'opera. È un quartetto fantastico, tra l'altro anche abbastanza popolare, perché se non sbaglio c'è una scena del film Amici Miei in cui loro cantano Bella Fia dell'amore, qualsiasi altra cosa che aggiungerei sarebbe superflua, godetevelo.